Il 15 settembre del 1966 nasce il genio del Montenegro, Dejan Savicevic, auguroni. Oggi doppia sfida tra Liverpool e Milan. Alle 14 i ragazzi di Federico Giunti nella Youth League e alle 20.45 i ragazzi di Stefano Pioli. Vediamo le scelte del nostro mister per questa sera. Per quanto riguarda Ibrahimović è rientrato l'allarme, dovrebbe tornare prima del previsto, dopo ne parleremo, così come delle dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis sul bisogno di creare un torneo più moderno in Europa fa delle proposte concrete. E poi dopo concludo proprio con un paragone che non ha né capo né coda e riguarda un nostro ex giocatore grandissimo come Franklin Rijkaard che hanno paragonato anche un ex nostro giocatore ma che sicuramente di pane, pasta e frutta e verdura, tutto quello che è, ne deve ancora mangiare per arrivare a certi livelli. Tribù rossonera, tribù di gente vera, buon mercoledì 15 settembre a tutti e a tutti e bentornata e bentornato qui sul puntamento quotidiano nel tuo canale rossonero del Marietto Milanista. Oggi ho voluto iniziare in questo modo che penso era il modo con cui ho cominciato fino a un po' di tempo fa, però con sigle e siglette, invece voglio essere il più naturale possibile senza fare dei montaggi esagerati, così nudo e crudo, così come sono, però dandovi già dei titoli per farvi capire realmente di cosa poi tratteremo e cosa narreremo in questa puntata della tribù rossonera. Innanzitutto ricordarvi che oggi è una giornata importante anche per il canale perché questa sera ci sarà il pre-partita Liverpool-Milan, come sempre lo vivremo qui insieme in diretta. Poi ci sarà la radio cronaca che farò io personalmente di Liverpool-Milan, sicuramente senza commenti perché chiaramente voi sapete che arriva un ritardo anche nello streaming YouTube di un paio di minuti, quindi per evitare anche problemi, chi vede prima il gol, chi vede dopo il gol, che si creano confusioni inutili. Quindi farò una radio cronaca in stile antico e vedrete anche il modo veramente simpatico e scoppiettante con la quale la farò. Quindi sarà un grande esperimento anche questo in questa nuova rubrica, diciamo. E poi nel post partita ci sarà appunto la consueta live post partita delle reazioni a caldo di Liverpool-Milan. Quindi oggi mi raccomando, vi aspetto, quindi cominciamo subito con un bel like di amicizia, un ringraziamento speciale a tutti i nuovi e le nuove iscritte al canale, a tutti quelli che entreranno, a parte come sempre tutti coloro che mi sostengono da tempo. E per tutti gli altri miei social, i miei sponsor e tutto quanto, i link li trovate qui in basso in descrizione. Dunque oggi innanzitutto è il compleanno, facciamo gli auguri e non è un caso proprio al genio del Montenegro che noi ben ricordiamo che ha vinto tre scudetti con il nostro Milan in sei anni, tre supercoppe italiane, una supercoppa UEFA e una Champions League in quel di Atene dove il Milan mise 4-0 con il Barcellona dove lui fu uno dei più grandi protagonisti di quella partita con un pallonetto da fuori aria che sorprese anche il ben grande portiere anche della nazionale spagnola, Antonio Zubizzarreta. Quindi come non dimenticarsi del nostro caro genio del Montenegro. Quindi tanti tanti auguri a Dejan Savicevic. Poi oggi alle 2 appunto ci sarà l'antipasto di quello che stasera sarà il grande match di Anfield Road. Infatti giocheranno i ragazzi di Federico Giunti nella Youth League in quel di Liverpool e alle 20.45 ci sarà il grande match. Dopo otto anni finalmente il Milan torna con grande aspettativa in Champions League, la sua casa, la nostra casa e le scelte stasera di Stefano Pioli sono anche un po' condizionate chiaramente da degli infortuni che riguardano non ultimo quello di Zlatan Ibraimovic. Poi ci sono fuori anche Alessandro Pizzari, Krunic e Junior Messias, a parte quelli fuori dalla lista UEFA che sono Conti, Castiglieco e Pellegri. Dunque la formazione iniziale dovrebbe essere, sempre con lo schema 4-2-3-1, il nostro Super Mike Mignon in porta, Calabria a destra, Chiaer e Tomori in centro, Teo Hernandez a sinistra. Davanti alla difesa ci saranno Ben Asser e Kessi, Seleme Kers, Brahim Diaz e Raffa Leao dietro l'unica punta che dovrebbe muoversi da falso 9. E quindi Rebic in panchina saranno pronti, bisogna vedere se sarà disponibile dopo che ha avuto un'indigestione ieri il nostro Sandro Tonali a subentrare nella seconda parte, così come ci sono i vari Florenzi, Romagnoli, Gabbia, Calulu, Ballotture Dani Maldini e Giroud soprattutto in panchina che chissà potrebbe diventare l'elemento che possa scardinare la difesa dei Reds che stasera saranno sicuramente sostenuti da un grande pubblico e dalla sua grande curva, la Copp, con il suo famoso You'll Never Walk, You'll Never Walk Salon che poi abbiamo ripreso anche noi negli anni nella curva sud. E per quanto riguarda invece Ibra, il rientro non sembra così lontano, addirittura la Gazzetta dello Sport dava per la prossima partita di Champions League contro l'Atletico di Madrid, ma lo stesso Stefano Pioli invece fa capire che potrebbe riaverlo già per il big match di domenica contro la Juventus. Noi non siamo sicuramente sorpresi da questo, anche perché siamo abituati al fatto che Zlatan Ibrahimovic ci ha sorpreso più volte di fare dei ritorni veramente mostruosi a tempi di record, però chiaramente dopo quattro mesi che è stato fuori e tornato subito ha messo la sua zampata domenica contro la Lazio, è stato molto importante per questa vittoria contro i Capitolini appunto e quindi ci aspettiamo che già anche domenica potrebbe essere in campo in quel di Torino. Poi sono interessanti le parole di Aurelio De Laurentiis per quanto riguarda il nuovo format che lui vorrebbe in Europa. Lui parla di rivoluzionare il calcio in un'intervista che ha rilasciato al quotidiano inglese Daily Mail e lui parla di una riforma sostanziale tanto della Champions League che dell'Europa League visto che è un sistema che secondo lui non funziona più, non regge perché le entrate non sono sufficienti per giustificarne appunto la partecipazione e per essere competitivi bisogna avere dei giocatori di un certo livello. Ciò significa che devi spendere molto di più e cosa che appunto la UEFA non è che tenga molto in conto a parte per certi club che noi tutti conosciamo. Per lui dunque ci vorrebbe un nuovo campionato tanto a livello nazionale che a livello internazionale una riduzione di squadre probabilmente nei campionati nazionali per poi creare un vero campionato europeo. Un poco a stile Super League per quanto per me era troppo... poca meritocrazia ecco. Io credo che per fare un vero campionato europeo in ogni caso ci devono essere squadre che nei loro campionati nazionali hanno fatto bene. Non come diceva Agnelli per esempio sull'Atalanta che secondo me è solo una maniera per invidiare una società che davvero da anni sta lavorando molto bene dal settore giovanile alla prima squadra e si merita ampiamente i successi che sta avendo a livello proprio personale in quel d'Europa in Champions League. Quindi io penso che la meritocrazia debba continuare. Lui si rifà anche un sistema inglese, dice dobbiamo imparare molto dal calcio inglese ma io su questo non sono tanto d'accordo visto che li abbiamo ben mazzulati in Europa e speriamo che stasera ci sia anche la doppietta dopo qualche mese all'europeo la finale di Wembley. Lui parla di una ricerca che ha fatto che i giovani tra gli 8 e i 25 anni hanno smesso di guardare il calcio per stare davanti agli smartphone e crearsi i loro campionati virtuali, questi stadi virtuali. E però il problema è proprio come gente come lui, per persone che hanno venduto come marketing il calcio dove si è persa a mio avviso quella passione che avevo fin da piccolo quando appunto c'era la radiolina che si ascoltavano le partite, c'era questa enfasi e entusiasmo e chi non aveva la radiolina andava allo stadio. Invece da quando sono entrati in gioco il business delle televisioni, degli sponsor e di questi grandi premi che riguardano soprattutto certi paesi che hanno più di una squadra nelle competizioni più grandi, da lì si è sfaldato tutto. Quindi io sono per un sistema più all'antica, non me ne vogliano i modernisti in questo però a me piaceva che chi vinceva lo scudetto andava in Coppa Campioni chi vinceva la Coppa Italia andava in Coppa delle Coppe e le altre tre rimanenti andavano in Coppa UEFA e tra le tre poi vincenti praticamente si poteva fare un torneo anche per una vera Supercoppa europea a tre quindi sarebbe stato a mio avviso, adesso bisogna vedere se con la Conference League faranno una roba del genere dopo Champions Europa League con l'ultima Coppa però quello era un po' il mio format poi invece ci si è venduti diciamo a un sistema più grande e da lì è normale che poi ci sono degli sfasamenti perché entrano in gioco tanti di quei soldi che chiaramente chi ne ha come gli sceicchi che vediamo con Paris Saint Germain e con Manchester City se ne beneficiano a discapito proprio di chi invece come squadre più piccole cercano di emergere e fare il loro meglio tra queste appunto avevo citato prima l'Atalanta ma ce ne sono anche altre come in Inghilterra come l'Eister per esempio che hanno vinto addirittura una Premier League nonostante non avessero dietro quei colossi che hanno squadre inglesi come il Manchester City, lo Unite piuttosto che il Chelsea o Arsenal, Liverpool, queste grandi squadre quindi io da questo punto di vista sono un po' discordante perché invece di andare avanti a fare una roba del genere sì che tornerei a un campionato a 16 squadre e che tutte giocassero alla stessa ora a parte, almeno questa sarebbe la mia proposta a parte una partita la più importante della settimana farla giocare per esempio la domenica sera alle 8 e mezza ma le altre io le farei giocare in contemporanea come un tempo tutte alle 3 che sia il sabato o la domenica chiaramente la domenica è il rito della domenica sarebbe l'ideale poi in caso che ci fossero festività come sempre si è fatto si sposta al sabato quindi da quel punto di vista anche in quel caso c'è il famoso detto lasciare la strada vecchia per la nuova si sa quello che lasci ma non si sa quello che si trova e quindi noi ci siamo trovati in questi anni che sì, bella, la Champions, quello che volete però era molto più appassionante anche da tifosi e ve lo dico perché da piccolo l'ho vissuto sulla mia pelle vivere quelle esperienze di quei campionati a 16 squadre di quelle coppe campioni dei tempi coppe delle coppie, coppa UEFA sicuramente avevano molto più stimolo ve lo posso assicurare lo dico soprattutto ai giovani del canale e per concludere questa similitudine che hanno fatto dopo la partita di ieri a Malmo della Juve tra Locatelli e Franklin Reichard dicendo in vari social Madonna Locatelli sembra Reichard nel nostro centrocampo con questo concludo lasciando la parola a voi i commenti però sicuramente una cosa è certa bisogna un po' sciacquarsi la bocca prima di parlare di un tale Franklin Reichard e Locatelli paragonarlo a un giocatore così perché prima di essere paragonato a Reichard ne deve passare di acqua sotto i ponti ne deve mangiare di pane e pasta frutta e verdura figlio mio e vincere soprattutto quello che ha vinto il nostro caro campione olandese quindi attenzione, attenzione davvero nel fare dei confronti, delle similitudini con un qualcosa che non ha niente a che vedere proprio con Franklin Reichard e Locatelli soprattutto lasciamo perdere lascio a voi come sempre i commenti qui in basso vi ringrazio per avermi ascoltato qui fino alla fine vi aspetto questa sera ai super appuntamenti che ci saranno qui nella tribù rossonera e un bacio alle mie amiche un forte abbraccio a tutti i miei amici a tutta la tribù aug, aug, aug e sempre Forza Milan ovunque e comunque ciao!